Devi dire, sono tre parole. Mi. Camilla. Stai calmo. Voglio. Mi interrompi, non mi fai colore. E non urlare, non urlare. Separare. Mi voglio separare. Mi voglio separare. Mi voglio separare. Mi voglio sparare. Ti vuoi sparare. Puoi lasciarla sì o no? Non ci riesco. E allora qual ci vuole il falco? È un esperto in divorzi. Vorrei rendere omaggio alla sua bellezza. Mi scusi, non ho spiccioli. Credo che tu possa considerarti già singolo. Un fidanzato per mia moglie. Dal 30 aprile al cinema. Sono di me dottoressa. 300. Quanto? Quanto?